Ticca tita, tell me the truth I'm a shoulder, you can cry on Quindi lavoravi e studiavi dopo? Sì, avevo 22-23 anni In più facevo questa roba, ho conosciuto Momi Ci siamo sposati perché c'era necessità Era una scelta politica direi oltre di vita Perché avevamo teorizzato che era giusto abitare dentro il convito Perché i ragazzi avessero un'idea di che cos'è la famiglia, di com'è la coppia Addirittura così radicali, li siete messi a abitare là dentro Abbiamo scritto un libro su sta roba Dunque questa è l'esperienza forte che hai fatto Questa è molto forte Quanto sei stata? Gli ultimi tre anni di vita del convito, invece Momi ne ha fatto sette anni E sono stati chiamati in federazione dal segretario di federazione Che allora era Lizzaro, Mario Lizzaro Uno faceva architettura Già grande Gamora E Momi era Ca' Foscari Che faceva inglese lui Li chiamano, li chiamano in federazione Perché qui al Biancotto erano lo sbando Erano rimasti da soli i ragazzi che erano andati via Era stato iniziato da partigiani bravi Ma un po' non preparati, hai capito? Un gruppo di partigiani di mira E ho detto, fiamo un coeggio per orfani di partigiani Questo è stato l'inizio Lizzaro chiama questi della cellula universitaria Comunista Si era FIGC, federazione giovanile Finché eri universitario Anche se avevi fuori corso 27 anni E eri sempre FIGC Li chiama e dice Chi è il più bravo di voi due? Silenzio Cioè, fai Momi Se lui è segretario di sezione E io vice Sarà più bravo lui Vabbè, dice Tu sei preside E tu direttore didattico Promossi sul campo I vani sa neanche cosa che sia il Biancotto Avevano mai fatto esperienze del genere Capito? E allora Riunitisi in sezione universitaria Ci è deciso Che avremmo dato tutti una mano Insomma Perché se no E allora qualcuno entrò proprio come educatore Qualcuno di questi studenti Che stavano per laurearsi, eccetera Come educatore Quindi pagati E qualcuna di noi Era andata a fare Una specie di volontariato E tu se ne eri lingua? Io insegnavo I piccoli O se no lingue Facevo francese E poi Ecco Alla mattina però Facevo scuola Fuori E lì Ho conosciuto meglio Lo conoscevo già in sezione Però è così E allora A Ca' Foscari Sposandomi Mi ha cominciato a nascere Pierangelo Poi il lavoro del convinto Mi sono studiato Mi sono studiato Tutto il Macarienco Poi Gramsci E gli intellettuali Alla sera Roba da stuzzicadenti Per stare svegli Perché dopo aver lavorato tutto il giorno Hai capito? Studiavamo come i matti E così E quindi E vedevo che davo un esame all'anno Paghi le tasse col bambino Ho smesso dopo il secondo magistero E così non ho finito A Ca' Foscari Anche perché mi piaceva così tanto Insegnare ai piccoli Che ho detto Chi me lo fa fare? E sono entrata nelle scuole speciali Ho fatto il concorso Quindi io non sono mai andata in campagna Sono sempre stata in città In comune Ma cos'è che mi fotografia? Si sta facendo Sul piccolo Più provinciale Lì in Milano Sei sul grande Contatti con la umanitaria Con l'università Con personaggi Anche perché a Milano Più che piccoli C'erano personaggi grandi Gente che aveva perso anni di scuola Facendo il partigiano E recuperava gli anni di scuola Erano adulti E c'erano i corsi serali C'era stata una specie di scuola Laterale Alla scuola ufficiale Che era di sostegno Ai partigiani Si Era tutto nell'ambito Dei comunisti Insomma della zona Partigiani Più ampi Si a Milano Aveva più questa caratteristica La scuola media La scuola Il liceo Scientifico Parificati Mentre noi a Venezia Avevamo proprio teorizzato Che i ragazzi Dovevano andare tutti Alla scuola pubblica Fuori E' tornata Siamo tornati dopo un anno scolastico Perché qui a Venezia Gramolo era andato via E allora ci hanno richiamato a Venezia E siamo tornati Però è stato un po' sposato da Venezia Nel senso che tutta Venezia Partecipava Ha accolto questa iniziativa Anche i democristiani Che allora c'era favoretto fiscal E c'erano tanti di orfani Ne avevamo sempre una sessantina Sessanta Dovevi mantenerti Dovevi vestirli Dovevi era Ed erano finanziati da qualche ente Purtroppo Era difficile avere anche i contributi Come orfani di guerra Che sai Nel contempo Venezia si li aveva Come potrei accolti Però A livello nazionale Era molto boicottato Come convitto Che allora Era ancora di moda I conviti dei preti I collegi tradizionali Hai capito Questo era visto un po' come Collegio Governato dai russi Però hanno dato lo sfratto E dopo abbiamo avuto Un ulteriore sfratto Che non era il primo Avevamo già trovato La possibilità di spostarci O qui dove c'è l'ostello Alla Giudecca O in campo San Giacomo Dalorio La Vida Dove adesso c'è un centro Abbiamo già trovato 10 milioni Allora Costava 30 milioni qua Era La grande cifra Per carità A quel tempo 10 milioni Era tutto Il personale Rinunciava alla liquidazione Tutto I segnanti La cuoca La guardarobiera Tutti Brave persone Compagni O quasi Insomma 10 milioni Ce li prestava L'avvocato Sullam Ce li prestava A fondo Perduto Non con interessi Ce li prestava Perché all'estate Perché all'estate Facevamo turismo popolare Scolastico Siamo stati i primi All'estate I ragazzi più grandi A turno Facevano i camerieri Li vedrai nelle foto Facevano i camerieri Aiutavano Facevano le guide E venivano scuole O gruppi democratici Venivano A dormire I ragazzi Andavano a casa Quasi tutti A tutti I più grandi A turno Facevano 15 giorni Delle loro vacanze Davano una mano Quindi per accogliere contributi Per avere fondi Per avere la possibilità di vivere Perché sai È una spesa spaventosa Voi se non avevamo La solidarietà Operai A questo è il punto Della solidarietà Ogni Lo leggerai Operaio di Porto Marghera Davano dei soldi Rinunciava Per esempio Little Cedar Rinunciavano A Montedison Il loro pasto Del sabato Gli operai E lo davano I viveri Al biancotto Alla vetro Cock Ogni operaio Aveva diritto Di un tot di carbone Allora ci si riscaldava Ancora il carbone Nelle case Non c'era come adesso Del loro tot di carbone Davano Ogni operaio 15 chili Per il biancotto Noi ci scaldavamo Tutto l'inverno Con il carbone Della vetro Cock Ma tutti Quindi non avevate Financiamenti diversi Solo autofinanziamenti I braccianti Del ferrarese Cioè lo Stato Non vi dava niente Le anguille di Comacchio Ah che bello Gli ortolani Di Rialto A mezzogiorno Con la barca I ragazzi Avevano imparato A vogare Andavano A Rialto E davano O a meno prezzo Oppure anche Regalato Tutti i resti Della verdura E lo stessi pesci Vendoli Avevamo un macellaio Che era un compagno Che ti dirò adesso Dove aveva bottega Che avanzava Scegli Da una vita Insomma Hai capito E dopo Chi preparava Tutte queste cose C'erano le cuocche Brava Brava Si chiamava Adesso te lo dico Ma quanto tempo sei stata Due anni Due anni abbondanti Ho avuto il bambino Quando sono andata A Milano Questa è stata Una delle esperienze Più belle Che tu hai fatto Era una cosa eroica Proprio Era una cosa eroica Si Te ne accorgi Leggendo qua Come si chiama Lisetta Si chiamava Lisetta Le gambe storte Caminava così Proprio bestonato Era un numero Bellissimo Ecco E allora Sono andata Nelle scuole speciali Sono state lette Consigliere provinciale Eri già uscita Dall'esperienza Però di questa qua Perché l'hanno chiusa Nel 57 L'hanno chiusa Eri già uscita Sempre Sempre le scuole speciali Le scuole speciali Ho vinto il concorso E mi è convenuto Andare Anche perché avevo La specializzazione Per non andare in campagna Perché Così stavo in Venezia Rimanevo in Venezia Eccetera E E così Sono stata scelta Diciamo Dal partito In questa prima esperienza Sono stata scelta Per la mia competenza Diciamo Per la mia attività Didattica Più Oltre che politica Perché mi davo da fare Facevo parte del comitato federale Avevo questa storia Di federazione giovanile comunista Che si era rimasta Fino Fino che sono stata universitaria Ero federazione giovanile comunista Quindi ero nel federale Ecco quella foto Con Berlinguer Perché lui aveva partecipato A una nostra riunione a Venezia Hai capito? Lui era responsabile Dei giovani nazionali Da 15 anni Facendo gli ultimi 5 anni La capogruppo E avevo C'era solo la gigetta Che aveva cominciato a entrare Se no erano tutti uomini I compagni E devo dire Che ho fatto la capogruppo Insomma Poi Ho cominciato a cambiare il vento E si vedeva già Che avremmo vinto Sia la provincia Che il comune Perché c'era tutto un clima I movimenti femminili E femministi Io Ovviamente Cominciavo Anch'io A prendere attività Tutte queste Col fatto poi Che ero capogruppo In provincia Mi avvicinavano Facevano riunioni Era già molto Vivace E mi hanno fatto questa proposta Al partito Dice Mi hanno chiesto Se rimani in provincia Potresti essere La prima presidente Della provincia D'Italia Io ho detto Basta di provincia Non ne posso più Ero stata 15 anni E allora Mi hanno detto Allora Allora Ti mettiamo in comune Insomma Anche perché Nel frattempo Sai Si usava nel partito Che marito e moglie Non si stesse Nello stesso Ente O anche Parenti Insomma Ma intanto Era andato a Roma Nel 72 Quindi Lui non era più Consigliere comunale Lui è stato eletto Deputato E allora Sono stata eletta In comune E mi hanno indicato A fare l'assessore Allora Io volevo fare La pubblica istruzione Ma ormai I socialisti La volevano loro Assolutamente Non era possibile E la faceva Nero La Roni Allora Socialista E allora Sai com'è Alle donne Danno Sanità Però mi interessava Anche fare La sicurezza sociale Devo dire Perché su tutte Queste spinte Feministe C'erano C'erano anche Tante cose da fare Perché mi sollecitavo Già si cominciava A parlare C'era il divorzio C'era appena stato E io avevo fatto Una grossa battaglia Andando a fare Riunioni Per il divorzio Eccetera Cominciava a venire avanti La 194 Cioè Il fatto che Come avevo fatto La battaglia in provincia Con Basaglia Per eliminare Gli ospedali Psichiatrici E in comune Io mi sentivo Molto spinta Di più Che a livello Provinciale Capito Stare in comune Per tutte Queste sollecitazioni Che avevo io Dentro Oltre che A vederle Nelle donne Per sentirla E per Diciamo Appoggiare Quello che Mi veniva Richiesto Ecco E così Nel Nel 75 Siamo stati Uno dei primi Comuni A fare I consultori Familiari E È stato Un periodo D'oro Tanto d'oro Quello del Biancotto Assolutamente Su un altro piano Infiorire Di servizi Di cose Su un altro piano È stato Un periodo Meraviglioso Perché Perché avevo Coinvolto Tutto il personale Di quei servizi Che erano Stati Eliminati O che andavano Per eliminazione Come l'OMNI Come il consorzio Provinciale Antitubercolare Tutto questo personale Medico Paramedico E di educatori Ci ho detto Questo lo dobbiamo Recuperare tutto Perché non sarebbe stato Possibile dal punto di vista Economico Assumere tutti E allora abbiamo fatto Un primo convegno Che se lo ricordano ancora Gli operatori Perché anche con loro Sono rimasta Molto legata Molto Il primo convegno Con tutto questo personale Le ostetriche condotte Per esempio Che erano Cabeciotte Però erano Piene di entusiasmo Anche loro Oltre che di esperienza Naturalmente Dove avete deciso? E abbiamo deciso Che avremmo dato vita Ai consultori Il regolamento Abbiamo fatto Trovato le sedi Abbiamo teorizzato Che era necessario Un consultorio In ogni quartiere Quindi nove a Venezia E nove a Mestre Rapporto con l'ospedale Coinvolgimento Dei ginecologi La richiesta Delle donne Di avere Un ginecologo uomo E una donna In ogni consultorio Quindi Le prendevamo Bastava che fossero iscritte Alla specializzazione Capito? In modo tale Che cominciavamo E tante Sono state tirate dentro Così Magari erano Al penultimo anno All'ultimo anno Come le logopediste Per la medicina scolastica Quando ancora Non c'erano L'unità sanitaria locale Facevamo la medicina scolastica In comune Che è stata Una bellissima esperienza Per me Molto interessante E le logopediste Non si trovavano Bisognava che noi Ci rivolgessimo All'università Dal professor Scocco Che era molto bravo E ci desse Quelle che stavano finendo Insomma Aspetta perché Questa è divertente Io assessore Alla sicurezza sociale Che si chiamava Sanità e sicurezza sociale Nel 79 Viene fuori La riforma sanitaria E ciò E più che te Non puoi far che tu Il presidente Dell'unità sanitaria locale Ma compagni Faccio già l'assessore Eh ma appunto Non ti dico Cos'è stato L'inizio Dell'impianto Dell'unità sanitaria Sociosanitaria Dappertutto Credo che sia stato così Cominciare a baruffare Con gli enti mutualistici Tutte le sedi Non volevano Mollare Nell'INAL Non volevano Mollare Una sede Neanche a morire Dove mettevi Poi nove ospedali Un ospedale centrismo Fai l'organico E allora Fai gli organici Cosa guardi? L'anzianità I titoli di studio Le pubblicazioni C'erano dieci Nove direttori sanitari Nove economi No Cioè nove ospedali E capisci Fai le gravatorie Tu baruffe Con i sindacati Guarda E' stato Sono stati I primi mesi Della follia C'era uno Del comitato di gestione Che andava Era Prandi Poveretto Che andava a Roma E' morto Dava a Roma A baruffare Costienti mutualistici Perché ci dessero Le sedie Abbiamo gli archivi Da mettere a posto Non si va Chiusi gli ospedali Psichiatrici Allora Cosa veniva fuori? Che gli ospedali Psichiatrici Dipendenti Dipendevano Dalla provincia Poi c'erano Quelli che dipendevano Dall'ospedale E quelli dei servizi Territoriali Che dipendevano Dal comune Allora Quelli degli ospedali Psichiatrici Avevano L'indenità Isola Perché avevano Il viaggio Da pagarsi Allora Hanno cominciato A volere L'indenità Isola Anche quelli Dall'ospedale Al mare Avevo Delle baruffe Delle robins Seme proprio Nel 79 Con le nuove elezioni Ho detto Sentite compagni Io O il presidente Della US O rimango In comune Io preferirei Rimanere in comune Allora E' stato eletto Strumendo Presidente Della unità Sanitaria Locale E' sempre stato Perché il partito Fa fatica A valorizzarti E io ricorderò Sempre In un federale Che strumendo Si è alzato E ha detto La LIA E' stata Eroica Ho trovato Tanti problemi Ma tutto Impiantato La LIA E' stata Eroica Ricordatevelo Tiki tita Tell me the truth I'm a shoulder You can cry on Your best friend I'm the one You must rely on You were always sure Of yourself Now I see you've broken a feather I hope we can patch it up together Like I did before Sing a new song Tiki tita But I see you've broken a feather I'm a shoulder I'm a shoulder Cribe tita